in una passata intervista abbiamo conosciuto l'ospite di oggi in un ambito completamente diverso rispetto a quello di cui parleremo oggi infatti lui è un apprezzato musicista oltre che insegnante di musica e di basso in particolare lui ha avuto la fortuna di suonare anche con grandissimi artisti all'epoca della prima intervista ci raccontò anche di aver suonato insieme a phil collins che chi è che lo conosce uno dei veramente mostri sacri della musica internazionale oggi però francesco vecchia che qui con noi buongiorno francesco a tutti ci viene a raccontare un'altra grandissima passione siamo passati dalle sette note ma con qualcosa che comunque è legato perché la musica è parte integrante del cinema e tu non sei qua come attore non sei qua come regista o sceneggiatori ma tu sei come divertì un collezionista di più uno che vado a restare nella spazzatura poi veramente quella cosa lì nel senso che purtroppo come penso si sappia beh due fattori 1 il passaggio al digitale quindi quando andiamo al cinema oggi ciò che vediamo è tutto digitale è scomparsa la pellicola sono scomparse le macchine che si utilizzavano per proiettare la pellicola e tu le recuperate esatto e tante sale ai me soprattutto quelli che non hanno potuto sostenere la spesa per il passaggio da pellicola digitale che ha richiesto grandissime spese in termini economici da parte degli esercenti chi non ha potuto sostenerle ha magari chiuso il cinema il cinema è stato abbattuto e quindi tutto ciò che era contenuto nel cinema è stato buttato letteralmente in discarica allora li arrivo io lì arrivo lezionista un po fuori dal genesis di salvatore di proiettori diciamo così al passare valore salatori di storia di pezzi di storia del cinema di metallo e di chiesa malattia fin da bimbo sempre ha avuto la curiosità ricordo quando andavo a vedere i film mi ha sempre portato fin da bimbo e più che guardare il film io guardavo dietro quel rettangolino da cui proveniva questa luce sempre chiedendomi chissà cosa c'è di dietro per quale migliorare migliorare quello che permette luci e suoni in questa sala e quindi è successo che parla chiacchierò prima telecamere spente proprio alla proiezione del film nuovo cinema paradiso quindi era l'89 97 8 anni la cara signora gabriella del cinema perona conoscente dei miei genitori sapeva di questa mia curiosità prima la proiezione del film mi prese e tipo manina manina e mi portò a evitare la carina di proiezione e lì si è aperto un mondo perché io figuro alto così davanti a questo progettare il figlio è il sogno sono gigante sono dei giganti davvero dei giganti di metallo dai due trecento fili di peso per quasi due metri di attesa dei macchinoni pazzeschi e quindi mi trovai davanti a questa macchina meravigliato e da lì per per la meccanica del cinema ecco tu hai iniziato tutt'altro anche la passione l'hai coltivata sempre negli anni da giovane oggi che sei un po più maturo assolutamente ecco ma anche cosa scattato perché diciamo tua casa tua ti sei creato praticamente un piccolo cinema con tanto di sala di proiezione eccetera la cabina dove ci sono alcune macchine incredibili ho avuto la fortuna e poi nel video che sta scorrendo alle nostre spalle si vede delle macchine straordinarie antiche possiamo definire le vecchie si è un vecchio mai antico perché comunque è anche proprio un sistema che ormai obsoleto dice sicuramente prima oggi si c'è digitale che facilita facilita tutto tu e queste macchine straordinarie meravigliose e hai anche delle pellicole anche delle pellicole si adora le macchine arrivano tutte da appunto cinema di smessi o cinema che passavano da analogico a digitale quindi è stato davvero un vienitela pure a prendere c'è così non ci paghiamo neanche lo smaltimento in discarica che costa anche smaltirli con rifiuti abbastanza speciali e particolari le macchine arrivano di lì dai posti più disparati la più vicina e la più antica da vicissimo quindi scoprendo una realtà di piccoli cinema legati alle piccole comunità dei nostri paesi qui intorno quindi l'ultimo arriva da Salassa è la macchina più vecchia che c'è che è di chi allora è degli anni 30 una delle prime macchine quindi quasi 100 anni 90 abbondanti no anche abbondanti con l'appamento a manovella che è carino da vedere tutte le altre invece vanno dagli anni 40 agli anni 70 e sono state prese a torino vercelli in lombardia insomma un po dove capita quando so perché poi avendo conosciuto altri appassionati che condividono questa follia di portarsi a casa questi macchioni quando c'è in zona qualcuno che sa guarda che c'è il rischio che questo vada ci passiamo parola che più vicino va e prende e si porta a casa diciamo adesso come vediamo nel video che scorre sono completamente restaurate belle scintillanti in realtà tu vai a prendere dei pezzi di ruggine per alcune di queste macchine c'è anche un anno un anno e mezzo di lavoro per portarle a rifunzionare perché Francesca tra l'altro è un'altra cosa tu non ti sei affidato a nessun tecnico specializzato è tutta mano d'opera tua è tutta mano d'opera anche perché i tecnici specializzati su quel tipo di macchine non ce ne sono praticamente più i pochissimi che ci sono ti chiederebbero una cifra impossibile per restaurarla e quindi complice il covid ce lo siamo raccontati noi avevo avuto occasioni di prendere la prima di queste macchine che è stata ferma smontata nel mio garage per un paio d'anni è stata la buona occasione per visto che c'era tanto tempo provarci da solo e quindi vai ti prendi i libri manuali la rete aiuta e ti studi elettromeccanica fondamentalmente si è messo a studiare a studiare elettromeccanica scoprendo una predisposizione verso questa cosa che non sapevo direi che è rampante perché quello che hai fatto è che funziona quindi vuol dire che qualcosa di buono c'era sicuramente dalla genetica arriva qualcosa di ognuno costruiva quei proiettori lavorava in microtecnica a Torino quindi si ricordano i suoi racconti era sempre viva la microtecnica e la costruzione lui era un tornitore specializzato di certi particolari quindi qualcosa arriva di lì e per il resto mi sono documentato e ci ho messo mani e ci ho messo male esattamente perché tra altra cosa non è anche facile il fatto di montare queste pellicole perché sono grandi e poi c'è tutta la tecnica dove hai ragione hai ragione le pellicole arrivano anche qui alcune acquistate da qualche collezionista alcune trovate abbandonate nelle cabine alcune regalate dai posti più disparati l'operatore lo sapevo fare già prima invece quindi non sapevo curare le macchine sapevo usare le macchine e qui questa cosa risale alla seconda metà degli anni 90 quindi gli anni delle scuole superiori dove invece ho avuto la possibilità di conoscere meglio il cinema ombra in questo caso e di andare a chiedere ma mi piacerebbe un sacco imparare questo mestiere sempre appunto nel mare vicino a paradiso che ha lasciato un segno indelebile dentro di me tanto si vede che tu hai realizzato suo addirittura insegna del cinema sì 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 certo quando è matto ma non è matto bene ma cosa assolutamente e mi ricordo se non mi sono presentato dalla signora ambra che sarebbe da mattino a fare questo mestiere mi prendete cosa fai stasera sono libero fermati qua è iniziata l'avventura di proiezionista durante le stati per qualche anno quindi finiva la scuola io passavo l'estate al cinema ma stati bellissime dove mi sono visto passare sotto le mani tanta tanta pellicola e ho imparato questo mestiere che penso siamo rimasti dal vero della metà pochissimi in grado di poi gestire la pellicola come dici tu che arrivava smontata nei cinema in più parti tu da quelle parti dovevi controllare il verso fosse giusto giuntare le varie parti e da lì realizzare la grande bobina poi da 1600 metri 1800 2000 a seconda della durata con il duete primo e secondo tempo c'è anche poi la gente vede durante la proiezione infatti ho avuto la fortuna e ti ringrazio perché l'ario poter mente la fortuna di aver visitato quello che è la tua creatura questo spazio legato dove hai anche proprio le macchine per poter fare le dinte assolutamente anche questo oppure semplice prezzi un collezionista che dice ah ho la pellicola sono capace a dare da su che finisce di no tu hai hai tutto ciò che serve sono riuscito appunto sempre tramite ritrovamenti o contatti con altri ad avere davvero una cabina completa da cinema con tanto di avvolgere film giuntatrici e tutto quello che serve per fare quello che era il cinema analogico domanda gli amici come hanno preso questo top allora gli amici gli amici amici si sia la mamma si rassegnata a non avere più un garage quello che si vede è il garage di casa io credo che la maggior parte di chi ha un garage lo vorrebbe così diciamo che ha dovuto accettare ma accettato di buon grado questa idea matta di trasformarla in un cinema quindi familiari contenti compagna contenta amici anche e ogni tanto ci organizziamo la serata un bel cineform di vecchie stanno pizza e cinema dentro al cinema perché anche altra cosa chi vedrà le immagini hai anche predisposto una sala di visione con tutti i crisi perché con trattato anche serie di seggiole che sono anche di asseggiare si guarda le seggiole rosse gentilmente donate dal cinema quando ha sostituito le poltrone ammetto che volevo portarmi la casa anche qua solo che non sapevo domenica tassellano in mezzo alla cucina di poltroncine rosse arrivano di lì la cosa più interessante sono le poltroncine di legno che forse si vedono quella fila di poltroncine è credo l'unica testimonianza rimanente dei cinema rivarolesi poi arrivano dal cinema cristallo cavolo storico ed è l'unica roba perché ero veramente ragazzino quando lo hanno abbattuto e non abbattuto convinto io convinto che fosse vuoto ormai e invece no era pieno di tutta l'attrezzatura seggiole proiettore impianto auto tutto quello che poter schermo quindi sono arrivato molto tardi per salvare il resto sono riuscito a estrarre dalle macerie questa fila di quattro poltroncine e quindi quelle arrivano da un cinema di rivarolo quindi hai raccolto un pezzo di storia che al di là di del territorio comunque poi come raccontato non è solo territorio perché per lì con le macchine arrivano anche da altre zone fuori del canale però un pezzo di storia è un pezzo della nostra storia del nostro vissuto un pezzo di storia molto poco conosciuto perché ciò che c'era dietro il muro e dietro il finestrino di proiezione della cabina nessuno l'ho mai visto nessuno l'ha mai saputo a meno che qualcuno fosse un addetto ai lavori e lì ci sia entrato per cui una cosa secondo me interessante da conservare proprio perché come dici tu patrimonio anche di conoscenza tecnologica se tu ci pensi queste macchine le aziende italiane che producevano proiettori erano il top che ci potesse essere esportavano in tutto il mondo tu quelle macchine le trovi in australia e in cina negli stati uniti in africa ricordiamo che torino è stato veramente uno di fulcri del cinema e dell'assolvere il cinema cinema nasce a torino si è adottato e trasportato da altre parti ma nasce lì sia a livello di tecnologia sia a livello di produzione si è poi spostato come produzione le due tre più importanti casi prodotti cd proiettori erano milano due di queste case esistono ancora oggi si occupano di digitale con una competenza ripeto pazzesca perché ogni pezzo di quei proiettori lì esteriormente e meccanicamente interiormente è realizzato a mano quindi si giustifica anche il fatto che fossero macchine anche un costo del genere però si giustifica anche il fatto che dopo 90 anni e almeno 30 40 anni di abbandono all'umido alla pioggia siano un po di lavoro siano ancora lì e funzioni che teniamo conto anche ore 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 di proiezione sì sì calcola che in un cinema di prima visione per girare tutto il giorno quasi tutti i giorni con un giorno di pausa ore ore sul gruppone sono ancora lì a fare il loro dovere perfettamente e penso possono farlo per altre tante ore cosa bella perché sono così vecchi in realtà proprio per il risparmio e la diversa mentalità secondo me rispetto a quella in cui siamo immersi oggi ma così è quelle macchine non venivano cioè inventavano un nuovo sistema di lettura sonora inventavano una qualsiasi altra cosa si adattava la il nuovo sistema alla macchina quindi non prendevi la macchina la buttavi via e prendevi tutta la macchina nuova ma è interessante che noi sono degli accrocchi pazzeschi perché hanno adattato poi c'è stato poi l'avvento del dts questo sistema di lettura digitale applicato all'analogico non buttare il proiettore si installava tramite staff e cose il nuovo lettore tu prendevi il proiettore quindi sempre attuale quindi trovi proiettori molto vecchi perché grazie alla loro efficienza meccanica è sempre solo bastato modificarli perché fossero attuali anche perché il sistema di proiezione e scansione di 24 fotogrammi al secondo è rimasto in variato c'è anche se la storia del cinema digitale quello è anche perché è sempre questione dell'occhio umano che assolutamente ha bisogno di quel numero di fotogrammi di quella velocità che non sa che in realtà quando guarda un cinema in pellicola vede un sacco di nero perché tra un fotogramma e l'altro tu hai due interruzioni che si vuole la pellicola lo vedi nella lo vedi facendo funzionare lentamente il proiettore e vedere apprezzando nel movimento meccanico tu vedi che tra il cambio di un fotogramma e l'altro per due volte viene oscurata l'immagine ed è questa velocissima sequenza di scuro e immagine che crea nella retina di chi guarda l'illusione della del movimento che si tratta di migliaia di piccole fotografie una vicina all'altra che grazie a questo sistema cinematico diventano movimento dietro c'è un modo straordinario di che è comunque per molti tanti appassionati ho visto ho visto che hai diverse pellicole di tutti gli anni eccetera quali sono quelle cui si più affezionato e soprattutto quelle che sono diciamo così più prezioni allora probabilmente storicamente quelle preziose sono alcuni vecchi corti della disney quindi quei cartoni che quei cortometraggi che venivano abbinati a grande che ne so prima di la sirenetta c'era a per il guardiano del faro cartoni da dieci minuti ciascuno che aprivano il film quindi alcuni di quei disney sono molto molto rari tra l'altro sono anche molto ben conservati a livello di colori e suono perfetti quindi quelli e ti direi sicuramente dopo i corti di chaplin perché appunto tu e ai ricordi ci ha trovato di sì 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 non le stampe originali che sarebbero in nitrato e quindi infiammabili e in casa non ci mettiamo ma sono ristampe degli anni 50 60 70 tagliate da succedeva che almeno per chaplin è successo così immagino anche per altri le comiche venivano poi unite insieme per ricavare un unico film da un ora e mezza qualcuno ha pensato di da questi lungometraggio di andare a tagliare normalmente queste comiche e conservarlo e mi è capitato di trovarne ne ho una decina e quelli a livello storico forse tra le cose più preziose che ci sono diciamo che anche da appassionato e amante del cinema quale sei sicuramente avere un qualcosa che rappresenta quello veramente storia quella storia e p pioni e poi ripeto hai anche molte cose molto più moderne perché alla fine dei conti come raccontavamo invece quando sono venuto a trovarti per scoprire questo fantastico mondo che hai creato a un certo punto la pellicola va in pensione la pellicola va in pensione 2013 2000 una decina d'anni è andata in pensione la maggior parte della pellicola è stata distrutta perché quello era il suo destino il gato grandissimo peccato la legislazione tra l'altro in italia riguardo questo genere di supporto è molto strana non si capisce bene i diritti rimandano ovviamente alle case e le altre copie scampate al macero sono state affidate a denti atti alla conservazione le cineteche eccetera 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 quindi le copie che io mi ritrovo per casa sono copie o probabilmente scampate al macero o che qualcuno si è dimenticato di restituire dopo la collezione sono rimaste nell'angolo della cabina del cinema a nessuno le più reclamate e quindi per fortuna io dico sono ancora lì fruibili la grande difficoltà è infatti il sogno è ne chiacchieravamo poter tornare a fare qualche rassegna in pellicola magari dando la possibilità al pubblico anche di entrare e visitare il cinema spiegare come funzionava portarlo in cabina a vedere questa macchina gigante per i ragazzi di oggi appunto fino al 2013 anche prima quanti questo mondo non sanno come ha funzionato funzionava e sarebbe veramente molto bene inesplorato quindi con il buon nicolò to melleri che è l'attuale gestore del cinema ambra a cui sono molto affezionato stiamo cercando di pianificare con tutte le difficoltà burocratiche delle proiezioni nel caso in cui ciò avvenisse ovviamente invitiamo chiunque a venire a vedere dietro c'è stato un grandissimo sforzo nel recupero delle macchine che erano di ferme da dieci anni ci abbiamo lavorato tanto adesso sono perfettamente funzionanti e c'è un grande impegno economico perché riproiettare al cinema una pellicola in 35 mm è davvero molto 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 dispendioso per cui mi invitiamo valorosamente a venire per il piacere di scoprire una cosa nuova e di riscoprire qualche titolone del passato quindi con nicolò stiamo lavorando lì sono in assolutamente anche in rapporti con valeria che ha preso le redini invece del cinema margherita ea cui è venuta le si avvicinata da poco alla gestione del cinema con un entusiasmo pazzesco scoprendo che anche lì lei purtroppo non ha più non al momento possibilità di proiettare in pellicola perché i suoi proiettori sono stati smontati ma li hanno conservati sono lì benissimo quindi mi sa che qualcuno potrebbe dargli una mano chi lo sa infatti guarda stiamo con lei recuperando lei ha scoperto questa macchina degli anni trenta che è stata la prima macchina acquistata dai suoi bisnonni comunque credo proprio a livello di alto canavese siano stati i primi a fare proiezioni cinematografiche quindi stiamo recuperando questa macchina che sarà messa poi in esposizione nell'atrio del cinema quindi potrete vederla anche questo è bello perché dobbiamo guardare al futuro assolutamente fondamentale effettivamente oggi è molto più facile lo dicevamo l'altro giorno come sia molto più facile oggi avere una prima visione anche un territorio tra vedolette di provincia mentre una volta quando c'erano le prime visioni soprattutto perché cosa non da poco una immagine oggi come digitale ci vuole un attimo noi siamo abituati alla funzione di avere tutti in casa basta basta schiacciare un clic un bottone nella tale invece addirittura il numero delle pellicole a disposizione nell'intera italia contato c'era con chissi perché costava tantissimo realizzare costa moltissimo la stampa della pellicola 35 millilitri c'è ancora qualche laboratorio che la fa pensiamo a l'ultimo film di nova che ha preteso la stampa in pellicola 35 70 mm quindi qualche laboratorio che ancora si occupa di stampe c'è ma davvero è un costo spropositato nell'ordine delle diverse migliaia di euro per la di un film da un paio d'ora di una copia una coppia e quindi per questo esistevano 25 30 copie circa di film che circolavano e giravano in tutti i cinema quindi prima quelli di prima visione per quelli seconda per quelli terza e a quelli di terza arrivano già belli strigacciati esatto perché questo perché nel mondo smonti eccetera ogni passaggio nel proiettore comunque va a rovinare la pellicola e se l'operatore la macchina non sono capace capacissimo l'operatore la macchina perfettamente pulita in ordine qualsiasi cosa incontri nel percorso di passaggio nel proiettore la pellicola da granello di polvere a vite che sporgeva a incidere e assegnare immediatamente la pellicola quindi per quello ogni tanto ci è capitato di vedere qualcosa non proprio purissimi quando erano in pellicola beh ogni tanto anche quando si vedevano quelle proiezioni anche del recupero in televisione di qualche qualche film dell'epoca si vede purtroppo rovinano anche perché erano trasferiti da pellicola sì gioco forza e quindi il master arrivava di era quello sì francesco un mondo meraviglioso potremmo stare a parlare ore e ore e ora però ti chiede in ultimo hai qualche progetto riguardo a questa questa tua allora sì mi piacerebbe come sto già facendo tornare a collaborare con le sale del territorio magari organizzando qualcosa con chi ancora la possibilità di farlo legato al mondo del 35 millimetri e sogno più difficile ma forse quello più grande con una delle macchine che ho magari quella più vecchia più interessante nel funzionamento da da vedere riuscire a portarla fuori dal mio garage e ogni tanto organizzare magari nei luoghi in cui si faceva cinema nel passato riproporre magari in qualche occasione estiva col bel tempo qualche proiezione sarebbe bello perché come dicevo per chi per i nostalgici un po come siamo noi sarebbe l'occasione sono noi l'opportunità di tornare a vedere qualcosa che ci ha emozionato e ci emoziona ancora adesso perché l'altro giorno che ho avuto la fortuna e ti ringrazio di vedere alcuni trailer perché peraltro tu anche diversi trailer di film ed è stato qualcosa di incredibile un'emozione veramente particolare che la si vive se la propria viva la propria vicino ma anche il fatto di appunto come dicevo prima portare i giovani e trovare anche appassionati che eventualmente ti diano una mano in futuro perché no sarebbe davvero bello creare un circuito legato a questa passione un circuito virtuoso virtuoso sì 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 di scoperta di interesse di appunto proprio passione sana che ci fa muovere le mani e ci fa usare la testa proprio a livello pratico e lavorativo massimo significherà che nel prossimo futuro tra qualche anno tra qualche decennio che venga anche a crearsi un museo del cinema perché no potrebbe essere potrebbe essere un'idea sicuramente materiale non manca tanto so che ho capito che comunque tu sei sempre alla ricerca quindi la tua collezione ormai sono loro che trovano me si è sparsa la voce quindi quando c'è qualche macchina che rischia di finire in discarica qualcun se il telefono suona Francesco c'è andiamo a prendere bene allora aspettando che la tua collezione diventi sempre più grande eventualmente dovrai trovare un spazio un po più grande grazie che ci hai raccontato questa grazie davide ripeto un bel salto una bella un bel viaggio in quello che è una cosa il cinema ci accompagna come la musica come diceva un'altra volta ci accompagna tutti i giorni il cinema è un'altra cosa che ti accompagna ci regala delle grandi emozioni oggi ci hai regalato una bella emozione secondo me qualcuno ascoltandoci farà un piccolo salto indietro andare a cercare qualcosa di passato lo spero perché il passato non dobbiamo dimenticarlo ma dobbiamo prendere spunto per è quello che ci ha portato fino alla tecnologica beh certo grazie mille grazie a te la prossima tanto so che la prossima volta ci racconterai ancora qualche cosa di particolare molto volentieri bene grazie mille grazie a te ciao